no allora siamo pronti per la gara McFish Tour attenzione 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 prima estratto attenzione Scardi Castelli in azione si mette i cucchiaini da stronzi eccolo eccolo da seguito ce l'ha è lì sotto più serio è bello anche lucetto lamato Castelli cattura un lucettino un lucettino sega bosca con la rana di gomma lucetto io penso attualmente operasse un po' più veloce wow ma qui mi sembra di molto troppo argosa la faccenda questa è una buona cattura di Castelli bello è questo è bello mi sento un gay con questa bretellina alla GoPro occhio li 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 lascio come vai il big manzi ti rilascio come vai il manzi vai orca bello 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 riso risatino si assenbega guarda la coppia vincente avete visto? si è vinto 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 vinto entriamo dentro attenzione si dice alzare le mani e si dice alzare già le mani eh e si dice alzare già le mani alzare già le mani alzare ciao allora fai 9 9 punti 9 punti per 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 ma ancora l'hai preso? ora o sta partendo a presto? lo perso ora 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 a 11 12 eh quello grosso a 12 ragazzi vai decis salutate ciao 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 ciao